Non potevamo mancare a questo appuntamento di Trieste che rappresenta per noi anche un momento di grande scommessa. Rappresenta una ripartenza per un prodotto che consideriamo fondamentale sul discorso inogastronomico. L'olio rappresenta e rappresenterà sempre una delle eccellenze italiane. Mirabilia, che accomuna 18 territori, 18 Camere di Commercio italiane, considera questo appuntamento come un appuntamento vitale. Trieste in maniera augurale rappresenta per noi anche un momento di ripartenza. Però sottolineare l'attenzione che il sistema camerale insieme a Union Camere nazionale ha nei confronti di questo prodotto è una positività che credo dobbiamo continuare a portare avanti, soprattutto nel rispetto delle eccellenze territoriali, quindi l'enogastronomia, quindi il turismo, quindi la cultura.